Il servizio Ranking Coach di Aruba analizza il contenuto del tuo sito web, suggerisce parole chiave e monitora concorrenti e social media. Ti aiuta a impostare e gestire campagne a pagamento, ti dà suggerimenti da seguire per migliorare il tuo posizionamento e ti aggiorna sui tuoi progressi inviandoti report automatizzati e notifiche utili. Al primo accesso al pannello di gestione dovrai eseguire la configurazione iniziale. Successivamente avrai a disposizione una dashboard che ti consente di utilizzare tutte le funzionalità previste dal piano che hai acquistato. In questo tutorial ti mostrerò l'intera procedura di configurazione. Per iniziare collegati alla pagina admin.aruba.it. Inserisci lo username Aruba, la relativa password e accedi. Se allo username è associato un solo dominio, l'accesso avviene direttamente. Se allo username sono associati più domini, indica quello su cui attivo il servizio. Dal menu di sinistra, clicca Web Marketing. Visualizzerai il box relativo al servizio Ranking Coach. Clicca su Gestisci. Come ti ho già accennato in precedenza, al primo accesso al pannello di gestione devi effettuare la configurazione. Per procedere, segui quanto riportato sullo schermo. Inserisci il nome della tua azienda e ulteriori dettagli richiesti. Poi localizzala. Se l'azienda non viene trovata in questo modo, inserisci l'indirizzo manualmente. Procedi cliccando su Avanti. Puoi localizzare con precisione la tua attività aggiungendo fino a un massimo di due località appartenenti alla stessa area operativa. Procedi cliccando nuovamente su Avanti. A questo punto devi configurare le categorie che si adattano al tuo business. Il sistema ti genera una lista di parole chiave rilevanti per la tua attività, in base alle indicazioni che hai fornito finora. Selezionale singolarmente tra quelle suggerite oppure inseriscile manualmente utilizzando l'apposito campo di ricerca. Una volta inserite puoi anche modificarle o rimuoverle. Continua. Da questa schermata indica i tuoi principali concorrenti. Ti consiglio di scegliere aziende che hanno le stesse dimensioni della tua e che operano nella stessa zona. Avanti. Ci siamo quasi. Verifica di aver inserito le informazioni corrette. Eventualmente correggile e procedi scorrendo la pagina verso il basso. Il servizio Ranking Coach è compatibile con i CMS più diffusi. Dal menu a tendina indicato seleziona quello che hai utilizzato per la realizzazione del tuo sito web. In caso contrario non selezionare nulla e lascia la voce Nessun CMS. Controlla nuovamente le informazioni aziendali per assicurarti che non ci siano errori. Infine clicca Finisci l'impostazione del progetto per ultimare la configurazione. La configurazione è completata. In questo modo avrai accesso alla tua dashboard e potrai utilizzare tutte le funzionalità previste dal piano che hai acquistato.